Ciao a tutti, faccio questo video come una sorta di seguito di uno dei precedenti, quello su come gestire gli errori, come sbagliare meno. Mi hanno chiesto in diversi di affrontare un po' più nel dettaglio la cosa. Ovviamente questa gestione dell'errore è molto relativa a, in particolare, allo studio di brani sulla chitarra acustica, in generale sono le procedure che affrontano i problemi che affrontano i musicisti, però questa cosa può essere molto specifica, anche se alcuni esempi possono essere molto interessanti. Allora, ci sono diversi livelli di interpretazione, diverse cose che si possono dire. Non so neanche quanto sarà a lungo questo video perché vado a braccio più o meno come sempre quando parlo e quindi a un certo punto potrei avere bisogno di interrompermi proprio per non fare una cosa estremamente lunga, magari dividere in due, ma mi interessa cominciare a parlare del problema. Allora, quando si studia un brano e si commette un errore, si commettono degli errori, ovviamente si prende quel passaggio, si suona tante volte e si spera di superare il problema. Fatto, questa potrebbe essere la risposta più logica. Allora, ci sono diversi livelli di lettura della cosa. Provo a dare un senso a quello che dico. Allora, innanzitutto bisogna capire bene dove si è, dove ci troviamo come livello. Ovviamente, se parlo in maniera specifica della chitarra fingerstyle, se stiamo studiando degli studi iniziali o di livello intermedio, di livello più avanzato, addirittura dei brani, di repertorio di artisti importanti. Perché faccio questo discorso? Perché chi studia molto spesso non suona dal vivo ancora, dovrà farlo, ma non lo fa. Per cui si decontestualizza tutto completamente. Allora, provo a prendere a esempio un paio di cose che mi è capitata, una per esperienza diretta. Parlando con Tommy Emanuel, non mi ricordo se in occasione di un'intervista, ma non è importante, gli chiesi quanto ci metti per portare un brano dal vivo? Quanto lo studi? Lui mi rispose una risposta abbastanza articolata, che era più o meno mi è capitato di imparare un brano, scriverlo e dopo due giorni suonarlo, ma per una mia composizione, un brano molto complesso, pieno di armonici, ottavati sulla chitarra, ci ho messo sei mesi. Adesso se Tommy Emanuel ci mette sei mesi suonando tutti i giorni quel brano, prima di portarlo dal vivo, questo significa qualcosa di abbastanza importante, no? Quando ci chiediamo quanto devo studiare, prima di essere sicuro, prima di capire se sto affrontando bene i problemi tecnici, gli errori che faccio. Lessi di Stefan Grossman, che disse, altro chitarrista, uno dei più importanti chitarristi acustici blues della seconda metà del Novecento, studio un brano un anno e mezzo prima di portarlo dal vivo. Allora, perché dico che si decontestualizza e si rischia, in questo modo, di fare degli errori enormi di valutazione? Perché quello che ci fa vedere un musicista vero, quando è sul palco, è soltanto la punta dell'iceberg, quello che lui ci vuole far vedere è quello che più o meno è sicuro di riuscire a suonare. Faccio il salto completo dall'altra parte. Ho molti studenti che mi pongono spesso domande molto simili. Quando vengo qui a lezione, sbaglio, ho già trattato questa cosa, no? Brevemente. Sbaglio, in realtà a casa veniva bene, comunque continuo a sbagliare in questo punto, oppure sbaglio sempre in un punto diverso. Allora, uno studente, un musicista, perché poi è un musicista, anche uno studente è un musicista, stai in un percorso, in un punto diverso del percorso, ma è lo stesso musicista, no? Che un giorno diventerà il Tommy e Manuel della situazione, o anche no, ma non è quello importante. Un musicista, uno studente, quando si siede a freddo davanti a me e mi suona una cosa che ha studiato tutta la settimana, mi dà la migliore interpretazione che io possa aspettarmi, per me, insegnante. Perché? Perché a freddo, spesso con la mia chitarra, che spesso è questa, senza essersi scaldato e magari l'ultima volta che ha suonato quell'esercizio, quel brano è il giorno prima, si mette in una condizione molto simile a quella in cui si mette un musicista professionista, posso fare il mio esempio, quando sale sul palco. Se salgo sul palco di fronte a 300 persone e devo suonare, non è che se sbaglio posso dire, scusate ho sbagliato, mi fermo, ma a casa mi veniva bene. Quello è come ho suonato, quello è come suono, è come ho suonato in quel momento. Se mi dice male, suono male, sbaglio magari anche in più di un punto. Se mi dice bene, tutto liscio, magari tutto un concerto, non sbagli mai, ci sono quelle cose mistiche che non si sa come possano accadere. Ma è quella la condizione. Io dico sempre ai miei studenti, se io ho dei libri, dei metodi, scuola acustica è un percorso di quattro libri, ho dei metodi con livello easy, intermedio, avanzato, facile, intermedio, avanzato. Dico sempre ai miei studenti, se prendete, perché molti arrivano a lezione dicendo sì, ma io già suono preso, sai, subito il libro intermedio, perché non credevo di dover prendere quello facile. Però poi, quando studiamo insieme e suonano delle cose di livello intermedio, non le suonano bene, neanche dopo averle studiate. Io dico sempre, se credete di essere a un livello intermedio e non suonate bene le cose di livello intermedio, non siete a livello intermedio. Non c'è niente di male, ci si arriva. Ma bisogna capire perché non si è a livello intermedio? Perché aver studiato a casa un sacco di tempo prendendo roba su internet, un pezzo di Tommy Emanuel, un pezzo di uno studio di non si sa che cosa, e mischiare tutto così, non ci dà un percorso didattico regolare, non ci prepara realmente a quello che dobbiamo fare. Cioè il conservatorio di chitarra classica non è che durava dieci anni perché ci volevano tenere segregati dentro, legati con le catene o con i chiodi alle finestre, durava dieci anni e quando esci dal conservatorio non sei manco niente. Sei uno studente, bravo, che sei diplomato, ma prima di diventare un concertista, vero? Troppa acqua sotto i ponti deve passare. Non è che i musicisti classici sono scemi, è che effettivamente il tempo per diventare un musicista è lunghissimo. Allora non voglio spaventare nessuno, voglio soltanto provare a dare dei suggerimenti sul perché a volte non si riescono a fare le cose, perché io da insegnante se non provo a cercare di capire le chiavi che posso dare a chi mi sta davanti e mi chiede un consiglio, ho fallito, quindi ho fallito più io che chi ho davanti, questa cosa deve essere chiara. Allora se si decontestualizza si fa un errore enorme, gigantesco, perché il mettersi nella vera condizione di esecuzione di un brano intanto è quello che ci dà la risposta, cioè non c'è suono, poi ho sbagliato, scusa ricomincio, no ricominci, niente, stavi sul palco, hai sbagliato e se ricordano quello, non c'è niente in mezzo. Allora come provare ad affrontare questa cosa? Ovviamente se si segue un percorso di studio, se si va così a caso io, perdonatemi, non ho nessun tipo di suggerimento da poter dare. Se si segue un percorso di studio si avranno delle cose, un percorso di studio pianificato da qualcuno ovviamente che sa quello che fa, non è che ho fatto quattro libri di scuola acustica così a caso e mi sono svegliato una mattina, ci ho messo 15 anni a scrivere tutto quanto, che poi è stato messo insieme nel percorso. Ci saranno degli studi di livello iniziale, poi si va un po' avanti, poi intermedio, si va avanti, si arriva alle cose più avanzate, poi si comincia a studiare il repertorio dei grandi musicisti, chi vuole farlo? No, ovviamente. Allora, come ci si testa? Come si capisce veramente chi siamo e dove siamo? Se siamo andati avanti, non ci possiamo testare con la cosa più difficile che stiamo suonando e che abbiamo appena cominciato a studiare da due settimane. Io ho un repertorio, non so, quando suono da solo, di una trentina di pezzi dal vivo posso suonare, cose mie che ho scritto principalmente, ma ormai la scaletta è più o meno quella, ogni tanto inserisco un brano, ma ci sono cose che sono 15 anni che le suono dal vivo. Poi dicevo, sembri così naturale quando suoni, non è che sembra naturale, sono 15 anni che le suono, ma quanti di quelli che studiano sono 15 anni che studiano lo stesso pezzo? Quando valutiamo la performance di un musicista dal vivo, dobbiamo considerare anche questo, dobbiamo considerare che quella cosa che gli vediamo fare. Magari la suona da 30 anni, magari da 20, magari da 10, magari da un minuto, ma il repertorio di un grande musicista è una cosa consolidata su cui ha passato anni, oltre a tutti gli anni di studio prima, non è che ha cominciato lì. Allora, e tra l'altro il musicista, ripeto, sceglie cosa farci vedere. Io dal vivo mi sarebbe piaciuto portare delle cose, dei brani di altri artisti che mi piacevano molto, ho deciso di non suonarli perché ci sono dei passaggi, a volte anche un solo passaggio, che non mi viene tutte le volte che lo suono. Se mi viene la metà delle volte che lo suono a casa, col cacchio che ve lo faccio vedere a voi che state dall'altra parte, perché la metà delle probabilità è che sbaglio. Allora, come ci si pone in questo modo verso il proprio studio? Come si capisce? Si possono prendere degli studi, non i più difficili ovviamente, degli studi che riteniamo anche troppo facili, troppo, provarli a studiare per qualche tempo, veramente, provare a registrarsi, provare a farli sentire a qualcuno, fare una piccola esibizione, anche con cose molto molto semplici. Io dico spesso ai miei studenti, guardate che se ti metto sul palco di fronte a 300 persone con lo studio più semplice che sai, o due o tre di quegli studi, te voglio vedere come stai quando scendi dal palco. Cioè, quel passo, quei famosi tre scalindi, quando si sale sopra e basta, si spinge rec e è finita, sono una delle cose più complicate da affrontare. E molto spesso non hanno granché a che fare con tutto quello che abbiamo studiato a casa, ovviamente ce lo hanno, ma è un lato psicologico completamente slegato dalla fase tecnica o di memoria di ricordare i brani o da come ho studiato quel passaggio. Lo studio vero nostro di musicisti, ovviamente, tranne che quando siamo arrivati al limite, quando siamo arrivati al limite suoniamo sempre il repertorio che ci siamo scelti, le cose più difficili, lavoriamo per perfezionarle, per suonare sempre meglio e per essere pronti a suonarle in qualsiasi contesto. Ma bisogna prepararsi a questa cosa. E non è facile, perché il palco, dopo che ti sei preparato per anni, ti insegna per anni ancora altre cose. Io, per esempio, ho una grandissima difficoltà sul palco perché, essendo stato chitarrista elettrico per la maggior parte della mia vita musicale, fino a 30 e passa anni, sul palco elettrico, se mi metti accanto a Eric Clapton con una strada e facciamo un blues, a me se ci stanno 40.000 persone davanti io sto a casa. Ma da solo con la chitarra acustica, suonando un brano anche mio, con 10 persone davanti cambia tutto. E io questa cosa non ho imparato a gestirla quando ero un ragazzino, come ho fatto da chitarrista elettrico. Ho imparato a gestirla da grande, per cui è una grandissima difficoltà. Allora, provare a mettersi nella vera posizione. Può essere, appunto, registrarsi. Oggi basta mettere un telefonino, suonare lo stesso brano. A freddo, basta. Spingo rec e suono. Ho sbagliato? Cerca di andare avanti. Poi rivedrai dopo dove hai sbagliato. Ma cerca di andare avanti. Non esiste fermarsi. Non c'è. The show must go on, la frase. Non l'hanno inventata a caso. Lo spettacolo deve andare avanti. Quindi, mettersi in una posizione, provare a contestualizzarsi, può essere proprio prendere qualcosa di estremamente semplice, che crediamo estremamente semplice, studiarlo alla morte e provare a suonarlo in un contesto che sappiamo ci metterà in difficoltà. Quindi non una, due, insomma, due, tre, quattro cose. Ci dobbiamo mettere alla prova per capire. Se non ci mettiamo alla prova per capire non lo sapremo mai. Come faccio i palleggi col pallone, così. Ma poi se devo tirare un rigore alla finale dei mondiali, non è che Baggio ha sbagliato il rigore perché era una pippa. Baggio ha sbagliato il rigore perché ha sbagliato il rigore in finale col Brasile. Ho capito. Che cosa vogliamo dire a uno dei più importanti calciatori della storia, che non era capace a giocare a calcio? Subentrano dei fattori che ci sono sconosciuti fino a che non li affrontiamo tante, tante, tante volte. Quindi questo video lo chiudo qua. Vedrò se ho abbastanza cose da dire, se farne un altro, se non è troppo ripetitivo anche rispetto a quello che ho già fatto in precedenza. Ci tenevo ad affrontare questa cosa perché se non ci mettiamo alla prova con delle cose che sappiamo gestire, non con la cosa più difficile. Cioè se io da insegnante faccio venire uno studente che sta studiando già delle cose abbastanza complesse, ma a prescindere dal livello, se gli dico ecco la chitarra a freddo suona e lo giudico dicendogli ah hai sbagliato sulla cosa più difficile che studia magari da due settimane. Non sono un insegnante, sono un deficiente. Un insegnante deve cercare di capire come stai affrontando il brano. Per studiare veramente un brano, anche uno studio, ci vogliono mesi, ci possono volere anni. Se non ce lo mettiamo in testa e non capiamo, leviamo quei pochissimi talenti. Mi è capitato di incontrare musicisti anche giovani di grande talento che in pochissimo tempo suonano delle cose anche molto complicate, ma sono pochissimi e molto spesso poi si fermano là. Bisogna poi vedere qual è l'evoluzione di un musicista. Ci sono tanti diciottenni in giro per il mondo che suonano benissimo i pezzi di Tommy Emanuel, ma chi se ne frega c'è Tommy Emanuel, finché ce sta lui, anche quando no, Dio gliela cresca. Quando non ci starà più, chi se ne frega di vedere il clone di Tommy Emanuel. Io voglio vedere uno nuovo che scrive altra musica. Se voglio vedere Tommy mi sento i dischi, mi vedo i video. Allora, questa cosa è importantissima. Contestualizzare nella propria difficoltà, nel punto in cui ci si trova, non pensare di suonare la cosa più difficile che studiamo da pochi giorni e pensare di dare una prova di qualcosa, perché siamo completamente fuori strada. Non è quello che fa un musicista. Spero di essere stato utile con un punto di vista che magari è al di qua, non è quello dello studente, anche se siamo tutti studenti io per primo, sempre, comunque, ma le cose vanno viste in molti modi diversi. Alla prossima.